In un'epoca in cui i trend tecnologici guardano fortemente alla digital transformation, per cui i trend riconosciuti dalla digital transformation, quali smart working, per esempio, aziende sempre più informate anche sulle novità tecnologiche, colgono questo tipo di opportunità per essere competitive in un mercato sempre più fortemente innovato. È chiaro che in uno scenario di questo tipo è necessario avere un skill e competenze, un know-how da poter condividere con i nostri partner, con le aziende finali che sempre più guardano a uno scenario internazionale. Tutto questo naturalmente presuppone un call to arms per i partner, quindi per gli operatori di settore, fornitori di servizi per le aziende, perché naturalmente si ha la necessità di avere un nuovo skill, una nuova competenza per accompagnare l'azienda di riferimento in questo mercato sempre più di innovazione, di digital transformation. Quindi noi la figura del vendor naturalmente è fortemente importante anche per dare un supporto concreto ai nostri partner di riferimento per accompagnarli in questo nuovo scenario del futuro. Dico futuro, ma in realtà è più una realtà concreta, perché assistiamo costantemente a un'evoluzione delle aziende. Mi viene in mente lo smart working, che è già una realtà fortemente penetrata nel mercato della piccola e media impresa, soprattutto della large company, che è sempre un po' pioniera delle nuove tecnologie. Si richiede appunto una competenza fortemente orientata alla possibilità di dare servizi, un atteggiamento e una presenza più consulenziale come rapporto, come approccio, che deve essere assolutamente orientata a dinamiche sul mercato italiano, per quanto riguardano l'end user, quindi la grande company. Noi come GData supportiamo costantemente i nostri partner per accompagnarli e traghettarli in questo nuovo scenario. Lo facciamo spiegando ai nostri partner che la nostra concezione della sicurezza è in qualche modo concepita a 360 gradi. Per noi la sicurezza è una questione di processi. Questo è il leitmotiv che cerchiamo di trasferire al nostro canale di riferimento. L'idea che GData vuole condividere con i nostri partner di riferimento è appunto l'idea di processo, che per noi è un'idea centrale su cui si sviluppa anche il nostro modello di business. Per noi la possibilità di ripartire con un'idea di educazione alla sicurezza, partendo anche da una consapevolezza che deve necessariamente coinvolgere non solo l'operatore di settore, ma anche il top management o addirittura il dipendente di un'azienda, con appunto una rieducazione alla sicurezza, è fondamentale per creare e trasferire dei nuovi input al nostro partner di riferimento. Tutti questi concetti sono alla base di un partner program molto chiaro, molto leggibile da parte del nostro canale di riferimento. Si basa su corsi di certificazione, perché noi GData pensiamo e crediamo che la formazione costante sia un input importante proprio per penetrare ancora meglio con i nostri partner sul mercato di riferimento, che si compone di plus importantissimi, quali il supporto dedicato, quindi un supporto diretto per i nostri partner, si compone anche di nuove formule di vendita che sono assolutamente particolari e differenti rispetto a una formula commerciale a cui i nostri partner sono stati abituati da tempo. noi proponiamo qualcosa di differente, proprio perché vogliamo differenziarci non solo sugli input che diamo costantemente al nostro canale, ma anche sulle formule di business e modelli di business che proponiamo al nostro canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.